Musica Amici di Telenova, bentrovati a un nuovo appuntamento con la Chiesa nella città. Siamo ormai alla vigilia della festa dei lavoratori che la Chiesa ricorda anche nel nome di San Giuseppe Lavoratore, ovvero la festa del primo maggio. Ebbene, per il primo maggio la tradizione vuole che anche la Chiesa Ambrosiana raccolga in preghiera coloro che si occupano di pastorale del lavoro. Ci saranno infatti, come vedremo tra breve, alcune veglie per la diocese e le singole zone pastorali, ma scopriamo prima il motivo ispiratore della festa del lavoro di quest'anno dalle parole del responsabile proprio del servizio di pastorale del lavoro della diocese di Milano. Vediamo. Don Raffaello Ciccone è responsabile della pastorale del lavoro della diocese. Quest'anno la veglia diocesana dei lavoratori nelle sette zone pastorali in contemporanea. Perché questa scelta? Questa veglia prima di tutto tende a raccogliere molto di più la gente all'interno della diocese che è molto vasta e quindi la moltiplicazione, passi la parola, delle veglie è affidata alla rete, diciamo, delle sette zone pastorali con i vicari episcopali, ma perché è importante che i lavoratori affrontino, ripensino, in fondo questo momento molto importante, prezioso, difficile, lo affrontino insieme nella preghiera. Il cardinale con il fondo famiglia lavoro ha messo sotto gli occhi della diocese la necessità di un aiuto solidale, tuttavia non solo da Naro. La prospettiva non è certo quella del pronto soccorso, la prospettiva è aiutare le persone a passare, per esempio, da lavoro a lavoro, non da lavoro a Danaro. E da lavoro a lavoro vuol dire coinvolgere le Caritas, le Acli, in un impegno che è molto più del fare la scheda, se si vuole, o cercare la possibilità di una sovvenzione, ma suppone un lavoro più profondo, più maturo, di conoscenza della situazione, dei rapporti, delle prospettive, delle possibilità che ci possono essere. E vorrei segnalarvi allora almeno la veglia per la città di Milano, sarebbe lungo elencare tutte le sette zone pastorali, ma per Milano l'appuntamento è per questa sera, le 21, presso la parrocchia del Santissimo Redentore, in via Pierluigi della Palestrina 5, naturalmente giovedì 30 aprile e non venerdì 30 aprile, piccoli errori che possono capitare. Se volete maggiori informazioni riguardo però anche le altre veglie presenti in Diocesi, consultate pure il sito www.chiesadimilano.it. E cambiamo a questo punto decisamente argomento per parlare della visita pastorale del Cardinal Tettamanzi, che continua toccando diversi decanati della Diocesi. Domenica scorsa è stata la volta del decanato di Monza con la messa al Palacandi. Vediamo. 24 parrocchie, 3 comuni, Monza, Brugherio, Villa Santa, per un totale di 167 mila abitanti. Un tessuto ricchissimo e articolato di realtà, come i 18 ordini religiosi presenti nel decanato, quello appunto di Monza, dove il Cardinale, con una celebrazione eucaristica e il rito romano, presieduta presso il Palacandi, ha concluso la sua visita pastorale decanale. Ringraziando tutti coloro che cooperano a una comunità definita viva e impegnata, ma che deve sempre di più aprirsi alla collaborazione e alla corresponsabilità. Sì, noi dobbiamo passare attraverso queste prove di unità per dare a noi chiesi, per dare alla nostra società davvero questo esempio luminoso, l'esempio che siamo un corpo solo e un'anima sola. Insomma, prove di unità per una sfida lanciata ciascuno e che già in parte è raccolta dai primi frutti di collaborazione assai soddisfacente. Certamente il laicato è associato e sa impegnarsi sul piano pastorale con attività che assumono anche la tipica caratteristica dell'imprenditorialità brianzola. Ci sono molti gruppi, molte associazioni. E forse a livello pastorale occorrerà che tutto questo sia coordinato meglio, no? E quindi il consiglio pastorale che abbiamo cercato di rifondare in questo ultimo anno avrà questo compito. Credo che un decanato come il nostro possa anche presentare dei segni che io giudico promettenti, incoraggianti. Penso per esempio in quella che è la tradizionale pastorale delle famiglie, un'attenzione particolare alle famiglie con i bambini piccoli. E parliamo a questo punto di giovani e in particolare di quattordicenni che come vuole ormai è una tradizione che dura da qualche anno hanno incontrato il cardinal Tettamanzi nel cammino al Sacromonte. Vediamo il servizio. Corro verso la meta, recita lo slogan 2009 del loro incontro diocesano. E anche se forse non corrono in senso stretto, davvero alla meta arrivano con l'entusiasmo dell'età, con l'allegria contagiosa, ma anche con la preghiera al silenzio. Sono i quattordicenni arrivati da tutta la diocesi in circa 5.000 per incontrare l'arcivescovo al Sacromonte di Varese e dialogare con lui procedendo nel cammino di quella professione di fede che molti di loro si preparano a celebrare. Ma è a tutti che il cardinale augura di sperimentare la gioia del risorto, così come aveva già fatto il Papa incontrando molti di questi stessi ragazzi durante il pellegrinaggio diocesano a Roma la settimana scorsa. Lasciate che sia io questa sera a dire la mia gioia perché guardandovi negli occhi, soprattutto guardandovi nel cuore, so che voi siete sinceri e generosi. Un invito raccolto dai quattordicenni a cui l'arcivescovo consegna infine il mandato, segno di impegno cristiano e di speranza in tempi non facili come questo. Ci troviamo di fronte a quella che viene chiamata e giustamente l'emergenza educativa come un'emergenza che ci deve sfidare tutti quanti e che deve vedere da parte nostra davvero un impegno più abituale, più costante e più energico a essere noi i primi a testimoniare il valore della vita. E quasi in contemporanea con questo gioioso, festoso, ma anche raccolto raduno dei quattordicenni. A Varese, come molti di voi sapranno, si è verificato anche un terribile fatto di cronaca con un giovane ucciso a coltellate, a picconate e poi sepolto nel giardino di una casa. Questo torna a far riflettere su quella che lo stesso arcivescovo, avete sentito, ha chiamato emergenza educativa. E allora abbiamo chiesto ad alcuni dei presenti al cammino al Sacromonte che cosa significa educare i giovani oggi. Sentiamo. È difficile educare oggi? Penso proprio di sì, perché ci sono forze che hanno anche dei valori, degli ideali da insegnare, però sono forze che vanno un po' per la loro strada, la chiesa per la sua strada, la scuola per la sua strada, i genitori e il mondo degli adulti pure. Quel che manca è proprio un coordinamento, secondo me, di forze che riescano ad individuare modalità precise per educare i ragazzi al valore della vita, al valore delle scelte importanti. Quel che manca davvero adesso è questo. Io, girando un po' per Varese Centro, mi accorgo che c'è un via vai di ragazzi, anche giovani, che passano il tardo pomeriggio a bere, a fumare e fanno fatica a trovare altre proposte allettanti. Anche noi come chiesa, come oratori, ci interroghiamo per cercare di capire che scelte operare. Però quel che manca, a nostro modo di vedere, mio e degli altri coadiutori con i quali spesso parliamo di queste cose, è proprio il mettersi insieme come adulti per decidere sul serio di intervenire con i ragazzi che hanno bisogno, hanno bisogno, e lo si capisce, di esempi, di valori, di ideali nei quali credere e per i quali spendersi. Riflessioni che devono continuare, questo sul rapporto tra comunità cristiana e giovani, in un periodo nel quale viene sempre più messo in discussione il modo di guardare proprio le giovani generazioni. Vorrei parlare ora di Bibbia per segnalarvi una interessante iniziativa che prenderà il via da Decanato di Magenta. Presso il Cinema Teatro Nuovo in via San Martino 19 a Magenta, infatti, mercoledì 6 maggio alle 21.15, verrà rappresentato Ti racconto la Bibbia, Abramo, un primo passo di un progetto che vuole prendere in esame i principali personaggi della Bibbia e che vuole presentarli secondo un'ottica teatrale del tutto particolare. Ti racconto la Bibbia.it è il sito presso cui potete trovare maggiori informazioni su questo progetto che, come detto, mette al centro la Bibbia. Bene, è tempo di fermarci per qualche istante, alcuni suggerimenti di carattere commerciale, ma per la seconda parte della Chiesa nella città ci sono tante altre notizie. Vi aspetto. Di nuovo in studio e siamo destinati a parlare parecchio di Varese e del Varesotto in questa nostra puntata di La Chiesa nella città. Infatti, nei giorni scorsi si è tenuta a Gazzada, presso Villa Cagnola, una splendida dimora che attualmente è adibita a centro convegni, che rappresenta un balcone davvero straordinario sull'intera zona di Varese, in particolare sul lago di Varese, si è svolta appunto a Villa Cagnola una iniziativa dedicata alla figura di Paolo VI, alla presenza di praticamente tutti i vescovi lombardi e del Cardinal Tettamanzi. Vediamo il servizio. Paolo VI è il Papa del Dialogo che visse con la sua straordinaria passione il portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo. Lo dice il Cardinale Tettamanzi, ricordando Giovanni Battista Montini a 30 anni dalla morte nel convegno introdotto dal vicario episcopale per la cultura Monsignor Franco Giulio Brambilla e dedicato alla dimensione missionaria sulla scia di San Paolo, appunto, di Montini Paolo VI. E ad ascoltarlo, presso Villa Cagnola, Gazzada di Schianno, sono in prima fila tutti i vescovi lombardi riuniti per la conferenza episcopale della regione. E così il Cardinale rilegge, nella prospettiva dell'evangelizzazione, la prima lettera enciclica montiniana, Ecclesiam Suam, con quella parola dialogo che ne è cuore pulsante. E poi il secondo fondamentale tassello, l'esortazione apostolica Evangelii Nonziandi, datata 1975 nel decennale del Concilio, per una chiesa che è, dice Tettamanzi, unicamente evangelo accolto, realtà evangelizzatrice, missionaria, ed essa stessa da evangelizzare. La passione missionaria di Paolo VI consiste precisamente nel sapere che questo tesoro, che è Cristo, che è presente e vivo nella sua chiesa, è la risposta che la modernità, che il mondo attuale attende, anche se talvolta le sue espressioni sembrano essere espressioni che contrastano questo bisogno profondo che è stampato dentro di noi. E infine, dopo le relazioni di due notti studiosi montiniani, come Giselle D'Addornato e Angelo Maffeis, centrate sempre sulla missione, arriva anche un annuncio significativo. La vicepostulazione della causa di canonizzazione di Paolo VI sarà presso il Sacromonte di Varese e avrà come vicepostulatore Monsignor Egnapiciti. Parliamo a questo punto di crisi, crisi economica che colpisce le aziende, colpisce le famiglie e che mobilita anche le diverse diocesi di Lombardia. Già molti hanno contribuito al Fondo Famiglia e Lavoro della diocesi di Milano, che ha raggiunto ormai una dotazione di 4 milioni di euro e di cui tra l'altro si parlerà ampiamente nella puntata di domenica della Chiesa della Città in onda alle 13 e 15. Ma anche altre diocesi si sono mobilitate a partire dalle sollecitazioni del loro vescovo. Vediamo che cosa sta accadendo ad esempio nella diocesi di Como, sentendolo dalla voce del vescovo locale, ovvero Monsignor Coletti. In questo momento di crisi, come la diocesi di Como affronta la situazione? Abbiamo come diocesi attivato la raccolta di un fondo di solidarietà per le famiglie rimaste senza lavoro. A questo fondo, in modo particolare, ho chiesto ai preti di contribuire con un mese del loro sostentamento. e la cosa bella è che in questi giorni stanno cominciando ad affluire le loro offerte e si vede davvero un grande slancio di solidarietà. Anche lei come vescovo, come prete ha offerto un mese? Sì, sì. Io ho offerto la mia mensilità e credo meravigliando un po' le persone alle quali ho pensato utile di notificarne la misura perché normalmente si pensa che i vescovi abbiano degli stipendi paragonabili a quelli di un manager o di un dirigente. In realtà noi viviamo con poco e sobrio e anche perché la comunità cristiana ci viene incontro dandoci una casa che non dobbiamo né riscattare né della quale pagare l'affitto e siamo addirittura in grado di poter fare anche un po' di bene con quel poco che ci viene dato. E l'appannaggio di un vescovo come quello di Como è di 1700 euro al mese. Poi naturalmente come diceva giustamente Monsignor Coletti il vescovo non paga l'affitto non paga le utenze però insomma 1700 euro al mese lasciano spazio anche come diceva lo stesso Monsignor Coletti a qualche opera di carità per cui un po' di sobrietà che anche per i vescovi di questo periodo non guasta anche a livello di comunicazione pubblica. Detto questo vorrei segnalarvi un'iniziativa che avrà luogo a Erba siamo nella parte nord della diocesi di Milano presso la parrocchia di Santa Maria Nascente venerdì 8 maggio a partire dalle ore 21 si terrà la veglia diocesana per la 46esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni una veglia che ha rilevanza diocesana ma che guarda in particolare a coloro che abitano nel decanato di Erba e in più in generale nella zona pastorale di Lecco anche in questo caso per maggiori informazioni potete consultare il portale della diocesi all'indirizzo www.chiesadimilano.it occupiamoci ora della giornata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che si è celebrata domenica scorsa con molte e interessanti iniziative vediamo il servizio una grande missione da compiere nel cuore della realtà le parole che fanno da ideale sfondo all'85esima giornata nazionale per l'Università Cattolica ne indicano anche lo spirito vissuto nel solco della tradizione nel segno dell'eccellenza lo raccontano i numeri 14 facoltà 5 sedi le migliaia di studenti dell'Ateneo dei cattolici italiani il tesoro più prezioso dell'Università stessa come dice il cardinale Tettamanzi nell'aula magna dove celebra l'Eucaristia per la giornata 2009 nella quale ricorre anche il cinquantesimo anniversario della morte del fondatore padre Agostino Gemelli ricordato con ammirazione e gratitudine dall'arcivescovo che a conclusione della messa inaugura una mostra proprio dedicata al fondatore richiamando il legame inscindibile tra fede e ragione e il ruolo dei cattolici nella società possono e devono a mio modo di vedere bisogna cominciare a creare una coscienza dove questa possibilità è aperta anche a loro e quindi da questo punto di vista è un errore vorrei dire sotto un profilo etico è un peccato rinunciare e quindi non entrare nel lagone sociale politico culturale una presenza attiva che si fonda anche sulla formazione di cittadini consapevoli come voleva appunto Gemelli si incidere un cattolicesimo che sia un cattolicesimo rilevante ciò che appunto ricordando Gemelli il fondatore ci ha donato con quella frase che abbiamo messo a motto dell'intera settimana nel cuore della realtà solo entrando da giovani nel cuore della realtà si riesce a noi Anoria Braccini ha citato nel corso del suo servizio che abbiamo appena ascoltato la mostra dedicata a padre Agostino Gemelli fondatore dell'università cattolica in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa ebbene andiamo a scoprire un po' più da vicino questa mostra nel servizio che stiamo per vedere era nato nel 1878 e cresciuto in un ambiente anticlericale agnostico e tipicamente borghese Edoardo Gemelli aveva intelligenza cultura e forse quando faceva ricerca psicologica sperimentale dopo la laurea in medicina non sapeva di avere una missione da compiere lo scoprì quando incontrò il signore quando divenne fra Agostino nel 1904 dopo i voti nell'ordine francescano il grande progetto era l'università dei cattolici italiani a 50 anni dalla morte del fondatore Gemelli una mostra lo racconta attraverso testimonianze minuti del suo tempo o modernissime come la multimedialità un oggetto che l'ha colpita in modo particolare mi ha colpito questo bellissimo calice di ravasco che viene conservato ancora e che abbiamo esposto e che era il calice con cui padre Gemelli diceva messa fra le cose anche che colpiscono sono le parole direi le parole di quanti hanno voluto farci capire chi era padre Agostino Gemelli ma soprattutto chi è oggi tappe per raccontare una vita un sogno che continua a essere in realtà in progress il sogno di padre Gemelli era l'università cattolica e noi abbiamo cercato di dare attraverso le interviste che abbiamo fatto attraverso i video anche storici che abbiamo ritrovato abbiamo cercato di rintracciare questo sogno di dare voce a questo sogno farlo capire che questo sogno è diventato realtà ma continua ad essere un grande sogno e come ogni settimana ora ascoltiamo il Vangelo che viene proposto dalla liturgia per domenica e il commento dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo il Signore Gesù disse ai giudei le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del padre io e il padre siamo una cosa sola quarta domenica di Pasqua al centro della parola di Dio di questa domenica c'è la figura di Gesù buon pastore guardiamo questo volto di Cristo che nella tradizione iconografica è un volto i cui occhi ci seguono ci fissano ci spronano ad ascoltare quasi la voce che si sprigiona da quegli occhi è quello che dice il Vangelo di oggi noi dobbiamo ascoltare la sua voce perché conosce le sue pecore una per una conoscerle è il modo con cui Gesù introduce tutti i suoi fedeli nella sequela del padre è il modo con cui racconta ciascuno di noi quello che abbiamo bisogno nella nostra vita ciò che è importante ogni giorno come è facile aprire la nostra esistenza a quel frammento di speranza di fiducia a quella partecipazione alla vita del risorto su cui stiamo riflettendo in queste domeniche Gesù è il buon pastore solo per questo lui non può perderci nessuno può rapirci dalla sua mano dice il Vangelo di oggi abbiamo bisogno soprattutto oggi di aprire il nostro sguardo alla speranza di lasciarci guardare da questo volto di non perdere la fiducia di essere uomini e donne che sono capaci dentro i frammenti della propria vita di ritrovare sempre quell'altro e quell'oltre che ci chiama è un volto che ci fa ascoltare la sua voce e per questo noi possiamo essere come le pecore che hanno un pastore e sanno che stanno camminando verso i pascoli verdeggianti abbiamo detto in altra parte del nostro telegiornale come continui di fatto la visita pastorale del cardinato e i decanati della diocesi e domenica prossima sarà la volta del decanato di legnano siamo nella zona quarta quella di Ro e Busto la conclusione di questa visita pastorale avverrà domenica 3 maggio alle 16 presso i capannoni della azienda Franco Tosi con ingresso da via San Bernardino la Santa Messa rappresenterà appunto come dicevo la chiusura della visita pastorale e siamo in chiusura anche noi non della visita pastorale ma della nostra trasmissione solo il tempo per ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica la chiesa chiocciola telenova.it presso il quale potete inviare le vostre segnalazioni i vostri commenti anche perché no le vostre domande per quanto mi riguarda vi ringrazio di averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telenova e una buona serata di Telenova di Telenova e una buona serata di Telenova e una buona serata di Telenova e una buona serata Grazie a tutti.